Buongiorno, benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di percezione visuale. Che cos'è la percezione visuale? Beh, sostanzialmente è il primo passo di quello che è, quella che abbiamo chiamato la pipeline di visualizzazione, ovvero la serie di passaggi che ci porta dal dato fino alla comprensione di chi visualizza e vede la nostra visualizzazione dei dati. Sostanzialmente quali sono i passaggi? Noi partiamo dai dati, facciamo una codifica che permetta la visualizzazione e la percezione di quello che noi andiamo a visualizzare. Per fare questo utilizziamo degli oggetti visuali, forme e le loro proprietà, dimensioni, colori, eccetera. Il passo successivo consiste nell'andare a disporre questi elementi in modo da garantire quello che è un ragionamento da parte dell'osservatore della visualizzazione, ragionamento che sostanzialmente si basa sul confronto e sul mettere in relazione gli elementi. Il passo successivo, una volta che abbiamo questo confronto e questa relazione, è quello di andare a capire, cioè andare a identificare tendenze, pattern, elementi particolari, eccezioni, in modo da fornire una conoscenza che normalmente porta a prendere decisioni. Quindi vediamo i vari passaggi su un esempio molto semplice. Iniziamo dal primo passaggio. Per poter fare la percezione visiva noi dobbiamo codificare i nostri dati. Per fare questo dobbiamo andare a scegliere degli oggetti che rappresenteranno i nostri dati, che possono essere dei punti, delle linee, dei cerchi, quello che vogliamo, e una loro caratteristica che permette di andare a codificare il dato, che so, la lunghezza di un segmento. Vediamo questo in un caso specifico. Questo è il dato di partenza, sono i dati di partenza che noi vogliamo andare a visualizzare. Sono i dati di una serie di elezioni e quindi abbiamo quattro candidati con i relativi voti e la percentuale di voti che hanno ricevuto in totale. Decidiamo di fare il primo passaggio, cioè la codifica, andando a scegliere come oggetto visuale la linea e come attributo che rappresenta il numero che vogliamo andare a codificare, la lunghezza. Quindi questi sono quattro segmenti che rappresentano, con una certa proporzione, i numeri che abbiamo visto prima. Ovviamente io li ho messi un po' a caso sulla pagina senza alcuna accortezza. Perché? Perché in realtà le accortezze sono quelle che noi dobbiamo andare ad applicare per il passaggio successivo, cioè quello che permette il ragionamento visuale. Per poter ragionare su dei dati visuali noi dobbiamo avere innanzitutto la capacità di discriminare i dati, quindi capire ogni oggetto a che cosa corrisponde, ogni gruppo di oggetti, poterli andare a confrontare, quindi sostanzialmente andare a capire le dimensioni relative, chi è più grande e chi è più piccolo, e poi fare una valutazione, valutazione di dimensioni, ovvero andare a capire quante volte un oggetto è più grande, più lungo, più colorato di un altro, in modo da capire, ovviamente inferire, lo stesso rapporto tra i dati che noi stiamo andando a rappresentare. Quindi, se partiamo dal punto precedente, ovviamente qui non riusciamo a fare alcuna discriminazione. Quello che possiamo fare è quello di andare a separare un po' meglio gli oggetti andando a garantire quella che è la capacità di discriminare. Allora, in questo momento i segmenti sono di lunghezza abbastanza diversa, ma normalmente quando devo andare a fare il passaggio successivo, che è quello di confronto, di solito è comodo andare a disporre i segmenti, se vogliamo andare a confrontare la loro lunghezza, a partire da una stessa linea di riferimento. Questo sostanzialmente garantisce una facilità di confronto, quindi capacità di andare a mettere in ordine gli elementi più facili. Il passaggio successivo, cioè quello di andare a valutare la dimensione e i rapporti relativi, può essere facilitato, ad esempio, facendo un altro passaggio, che è quello di mettere in ordine gli elementi. In questo modo abbiamo due valori immediatamente successivi rappresentati da due linee che sono vicine l'una all'altra, quindi questo ci permette di andare a capire che questo valore, ad esempio, è un quarto più lungo dell'altro. A questo punto, quello che ci resta da fare è andare a fare, o meglio, abilitare tramite opportuni accorgiamenti visuali, la comprensione. La comprensione può voler dire fare tantissime operazioni diverse con i nostri dati, con quello che noi vediamo, andare a capire la distribuzione, la varianza rispetto a un elemento, oppure, se andiamo a considerare, all'interno di una categoria, andare a fare un ranking, quindi una classifica, andare a vedere i rapporti delle parti rispetto a un tutto, andare a vedere l'evoluzione nel tempo, nello spazio, oppure andare a fare delle correlazioni tra dati multivariati. Quindi, il passo successivo è, ad esempio, se vogliamo andare a fare un ranking, andare a disporre gli elementi in modo che siano facili da comprendere o da ordinare. Ad esempio, quest'ulteriore passaggio sostanzialmente enfatizza il candidato che ha ricevuto più voti, con un colore diverso, e quindi immediatamente ci fa capire chi è il primo, e allo stesso tempo rende un po' più neutro, un po' meno prominenti, in termini visuali, gli altri candidati. Inoltre, l'ordine che abbiamo usato qua è un ordine dall'alto verso il basso, che, quantomeno nel modo di comprendere la cultura occidentale, va a indicare gli elementi più importanti, normalmente in alto e a sinistra, e quindi questi li abbiamo evidenziati sia con un colore che con una posizione. Ecco, tutti questi passaggi sono quelli che vengono normalmente fatti per andare a fare una visualizzazione. Ora, mentre i primi passaggi, cioè quelli di andare a fare la codifica e mettere gli elementi in modo da garantire la discriminazione e il confronto, normalmente sono fatti automaticamente da qualunque software che sia in grado di sviluppare dei grafici, una volta che noi abbiamo scelto un certo tipo di grafico, le convenzioni che vengono usate per la codifica, per garantire discriminazione, confronto e valutazione sono sostanzialmente analoghe. Ecco, gli ultimi passaggi, quelli dell'understanding, di solito richiedono una cura particolare perché, ovviamente, il messaggio specifico che noi vogliamo mettere in un grafico non può essere noto allo strumento che genera automaticamente il grafico. Quindi, a questo punto, torniamo indietro e vediamo di capire come facciamo dall'inizio a sfruttare la percezione visuale per andare a codificare in maniera adeguata i nostri dati. Quindi, iniziamo dalla percezione visuale che è quella che garantisce il primo passaggio e garantisce sostanzialmente di andare a codificare in maniera adeguata dei dati utilizzando degli oggetti visuali e le loro proprietà. Qual è il modello da cui partiamo per capire come funziona la percezione visuale? È un modello molto semplificato rispetto a quello che avviene nella realtà che sostanzialmente prevede due fasi. Una prima fase, diciamo, fisica, in cui abbiamo gli stimoli, la luce, diretta oppure riflessa che colpisce l'organo sensoriale, ovvero l'occhio, e poi una seconda fase cognitiva in cui abbiamo l'organo percettivo, che è sostanzialmente il nostro cervello. Esistono varie teorie. Quella che noi utilizziamo, che spiega alcune caratteristiche della percezione, prevede di avere sostanzialmente come se avessimo tre tipi di memoria. Una memoria iconica, una a breve termine e una a lungo termine. La memoria iconica sostanzialmente riceve direttamente i segnali che vengono elaborati dall'occhio e quindi opera in maniera sostanzialmente pre-attenzionale, cioè non richiede attenzione, ma semplicemente registra quello che i nostri occhi vedono. Ovviamente è una memoria che è in grado di percepire un numero limitato di caratteristiche visuali. Non so, la forma, il colore, la dimensione, ma cose molto, molto base. Il passo successivo nella elaborazione e nella percezione è quello di andare a mettere assieme gli elementi base che sono nella memoria iconica in quella che è la memoria a breve termine, in cui vengono memorizzati quelli che sono dei blocchi di informazione che spesso vengono chiamati chunk. La memoria a breve termine ha due caratteristiche fondamentali, come dice nome e a breve termine, e inoltre ha una dimensione limitata, quindi riesce a contenere un numero limitato di informazioni. In questa memoria a breve termine vengono messi i concetti fondamentali che noi riusciamo a percepire dalla visualizzazione e successivamente vengono elaborati in un passaggio successivo e finalmente le idee e le informazioni di alto livello vengono memorizzate in quella che è la memoria a lungo termine. Ovviamente questo è un modello tutto sommato molto semplificato, tuttavia riesce a spiegare alcuni aspetti fondamentali di quello che è come funziona la percezione umana. In particolare, pur non avendo un corrispettivo fisico, quindi noi non abbiamo tre blocchi di neuroni o blocchi di chip che rappresentano quelle tre memorie, però riesce a spiegare alcuni aspetti fondamentali, ad esempio la cicità al cambiamento. Per cui vi faccio vedere un esempio. Questa è una foto, adesso ve ne faccio vedere un'altra e vi chiedo di capire quali sono le differenze. Ecco, normalmente è molto difficile andare a capire le differenze. Adesso torno indietro di nuovo all'immagine precedente. Di nuovo, avete notato qual è la differenza? È molto raro trovare qualcuno che sia in grado di identificare la differenza. A questo punto, se io vi dico di fare attenzione, ad esempio, a questo motore dell'aereo e vado avanti velocemente alla prossima immagine, vedete come questo motore sia sparito. Questo è un fenomeno che ci cita al cambiamento e che è dovuto al fatto che nella memoria a breve termine di solito non vengono messe tante informazioni, vengono messe informazioni sostanziali, essenziali per andare a ricostruire la scena. Quindi normalmente uno si concentra sull'aereo in sé, sulla fila di persone, sulla coda dell'aereo o su altri aspetti. Ma magari un'informazione ovvia come la presenza del motore non la registra. A questo punto il nostro cervello costruisce una rappresentazione che dimentica quel dettaglio. A questo punto, io passando da una immagine all'altra, ho lasciato un po' di tempo in modo che la vostra memoria a breve termine sostanzialmente scomparisse e quindi non fosse possibile avere un confronto diretto tra un'immagine e l'altra, e a questo punto la ricostruzione dell'immagine che avevate nella memoria a lungo termine era molto astratta e non aveva quel dettaglio, quindi passandolo l'uno all'altro sostanzialmente non siete in grado di notare il cambiamento. Un altro fenomeno che viene spiegato abbastanza bene dal modello semplificato che abbiamo visto, con i tre livelli di memoria, è quello che si chiama la regola del 7 più o meno 2. Sostanzialmente la dimensione della memoria a breve termine è di 7 più o meno 2 concetti, dove un concetto è un'idea un po' vaga di quello che può essere un'informazione. E quindi l'idea è che normalmente quando noi andiamo a mostrare un'immagine, il nostro cervello è in grado di raccogliere da 5 a 9 concetti informativi, per cui ad esempio quando vengono mostrati dei lucidi non ha molto senso andare a mettere un elenco lunghissimo di concetti perché è impossibile comprenderli in un colpo solo. Di solito sono necessario più passate e questo di solito comporta una fatica perché richiede di andare a ricostruire l'informazione complessiva. Quindi è molto meglio stare sul limite inferiore e quindi andare a mettere un massimo di 5 concetti che poi sono quelli che vengono memorizzati nella memoria a breve termine e vengono utilizzati per andare a ricostruire un'informazione più complessa e integrata che verrà poi messa nella memoria a lungo termine. A questo punto vi faccio vedere un altro esempio ed è questo. E vi chiedo ad esempio andate a contare quante volte compare il numero 5. Ora, voi mi direte, sì, serve un sacco di tempo per farlo su queste immagini. A questo punto, fermatevi un attimo, non fate il conteggio davvero, provate a rifare la stessa operazione qua. Però voi direte, beh sì, a questo punto è molto più facile. È molto più facile perché? Perché ho utilizzato opportunamente degli attributi visuali. Sostanzialmente ho lavorato sulla luminosità e sul colore. Questi sono due attributi pre-attenzionali, nel senso che il nostro cervello li registra senza dover fare attenzione specificatamente a quei dettagli e quindi permettono automaticamente, nel passaggio della memoria iconica alla memoria a breve termine, di andare a identificare con molta più facilità gli elementi da notare. Ecco, la parte di codifica sostanzialmente sta proprio qui, nell'andare a scegliere in maniera adatta quali oggetti utilizzare e quali loro caratteristiche utilizzare per andare a codificare dei dati. Normalmente ricordatevi che abbiamo due tipologie di dati che possiamo andare a rappresentare. Quelli quantitativi, che sostanzialmente corrispondono alle scale da intervallo fino all'assoluto e quelli categorici, che sostanzialmente corrispondono alle scale di misura nominale e ordinale. Quali sono gli attributi su cui possiamo andare a lavorare? Beh, sostanzialmente gli attributi pre-attenzionali che il nostro cervello è in grado di cogliere sono questi. Abbiamo alcuni attributi che riguardano la forma, ad esempio l'orientamento, la lunghezza, la distanza, lo spessore, la dimensione in generale, la forma, la curvatura. Abbiamo alcuni attributi che riguardano il colore, la posizione spaziale e il movimento. Quindi sostanzialmente l'idea è che gli attributi di visuali dovrebbero essere sfruttati al meglio per andare a garantire quella che è la discriminazione, quindi distinguere gli elementi, il confronto, quindi metterli in ordine e la valutazione di dimensioni, quindi andare a capire quante volte un numero è più grande dell'altro. Per fare questo dobbiamo mettere presente alcune caratteristiche fondamentali e alcuni modi di comportarsi del nostro sistema percettivo. Il primo riguarda il concetto di just noticeable difference, ovvero la minima differenza che riusciamo a osservare. Per cui se noi abbiamo due segmenti di lunghezza d e d più x, o x e x più d, scusate, nel caso dell'esempio che vediamo qua, d è la minima differenza notabile, osservabile, se per dimensioni o per differenze minori di d, noi non siamo in grado, in maniera facile, diciamo a prima vista, di percepire una differenza. Ovviamente quel d dipende da tanti fattori. C'è una legge che si chiama legge di Weber che mi dice che quel d dipende da la dimensione totale del nostro elemento, quindi se parliamo di segmenti, dalla lunghezza totale del segmento, e da un fattore, che qui è chiamato Kp, che dipende da tanti aspetti, da aspetti ovviamente soggettivi, quindi persone che hanno capacità di osservazione più o meno accurata, ed aspetti ambientali, quindi la dimensione, la distanza, il colore, la luminosità, tanti aspetti un po' più difficili da quantificare. Qual è la conseguenza della legge di Weber? È che sostanzialmente se noi abbiamo dei segmenti molto lunghi, a parità di differenza è più difficile notare una differenza, notare questa differenza, rispetto alla stessa differenza tra segmenti più corti. Per cui, in generale, devo fare attenzione a come vado a utilizzare le mie informazioni. Vi faccio un esempio di come questo funziona. Osservate questa prima coppia di segmenti. Siete in grado di rilevare qualche differenza? Probabilmente no, è praticamente impossibile. Perché? Perché non sono allineati, quindi in realtà devo andare a confrontare la coppia di estremi e l'altra coppia di estremi e vedere se sono più o meno vicini, cosa che è estremamente difficile, visto che la differenza è molto piccola. Se osserviamo la seconda coppia di segmenti, avendoli allineati, ecco qui, iniziamo a notare una certa differenza. Non è immediato, dobbiamo fare attenzione, ma sicuramente è decisamente più facile. Terza variante. I segmenti sono sempre gli stessi, hanno sempre la stessa lunghezza, ma in questo caso ho messo un riferimento che potrebbe essere, se queste sono delle percentuali, corrispondenti al 100%. In questo caso la differenza è immediatamente più facile da rilevare. Perché? Perché sostanzialmente qui quello che noi facciamo, più o meno inconsciamente, è di andare a confrontare non la lunghezza delle due barre arancioni, ma andare a confrontare la lunghezza di questi due spazi bianchi in cima. Ora, la differenza di è la stessa, solo che in un caso, se confrontiamo le due barre, ha una percentuale molto ridotta. Se andiamo a confrontare invece i due elementi bianchi, D su questa altezza del bianco invece è molto più alta e quindi sostanzialmente è sicuramente molto superiore a quella che è la minima differenza osservabile. Quindi in generale l'idea è, quando io devo andare a confrontare delle lunghezze o qualunque altra misura, è di dare più elementi di riferimento che mi consentano di andare a trovare le dimensioni che sono più simili tra loro e più piccole in modo che possono essere confrontate facilmente. Un'altra legge che è importante tenere presente quando andiamo a fare della visualizzazione, quindi a scegliere il tipo di codifica, è quella che si chiama la legge di Stevens, che ci dice che sostanzialmente la scala, quindi il rapporto tra le dimensioni di due grandezze che noi andiamo a osservare, solitamente varia ed è percepito in maniera diversa da quello che è effettivamente il rapporto geometrico che noi potremmo andare a misurare su carta. Se chiamiamo x il rapporto geometrico effettivo, quello che noi riusciamo a percepire visibilmente è sostanzialmente una costante moltiplicato per x elevato a β, dove β dipende sostanzialmente dalla dimensione spaziale della quantità che noi andiamo a osservare, ovvero se noi andiamo a confrontare due lunghezze, quindi lavoriamo in una dimensione, β sostanzialmente sta a un intervallo tra 0,9 e 1,1. Nel caso in cui andiamo a confrontare delle aree, β sta nell'intervallo da 0,6 a 0,9. Se invece stiamo confrontando dei volumi, β sta in un intervallo che sta tra 0,5 e 0,8. 0,5 vuol dire la radice quadrata. Questo vuol dire che, qui ve lo riporto in un grafico, se qui in ascissa abbiamo il rapporto effettivo tra due dimensioni fisiche e in ordinata abbiamo il rapporto percepito, se le dimensioni fisiche sono delle lunghezze, sostanzialmente quello che viene seguito è questa linea, che è sostanzialmente la retta che passa per l'origine è con pendenza 1, quindi se abbiamo 10 a 1 nel rapporto tra due lunghezze, tendenzialmente riusciamo a percepirlo più o meno in quel intervallo, ovviamente con un certo grado di incertezza. Se invece andiamo a confrontare delle aree, sostanzialmente un rapporto 10 a 1 viene spesso letto qui attorno, quindi un po' più di 5 a 1, quindi sostanzialmente il rapporto viene quasi dimezzato. Ovviamente anche qui, con un certo intervallo di incertezza, se andiamo a confrontare dei volumi, ecco, un rapporto 10 a 1 viene letto meno di 5 volte e quindi sostanzialmente tendiamo a sottostimare molto quello che è un rapporto tra volumi o tra aree rispetto a quello che effettivamente c'è da un punto di vista geometrico. Ad esempio, se andiamo a confrontare questi due quadrati, qual è il loro rapporto? Ecco, a colpo d'occhio non è facile andarlo a identificare. È ovvio che noi possiamo andare a confrontare il lato con l'altro lato, però a questo punto stiamo già facendo delle operazioni decisamente complicate. Se noi andiamo a confrontare questi segmenti, è decisamente più facile andare a fare una valutazione. Tanto per darvi la soluzione, 1 a 5, 1 a 3. Sostanzialmente, che cosa deduciamo dalla legge di Stevens? Che in generale è preferibile andare a far fare al nostro osservatore un confronto tra lunghezze piuttosto che un confronto tra aree. per cui questo è un qualcosa di molto semplice da applicare praticamente quando dobbiamo andare a fare della visualizzazione e in generale ovviamente evitare il più possibile rapporti tra volumi, che comunque in generale sulle due dimensioni non funzionano tanto bene. Per cui, riepilogando gli attributi di forma, sono l'orientamento, la lunghezza, lo spessore, la dimensione, la forma, la curvatura, la presenza di segni aggiuntivi e la chiusura all'interno di un elemento. Iniziamo dai primi. Come facciamo a valutare la dimensione tra angoli? Beh, in generale se due angoli sono orientati allo stesso modo, quindi hanno sostanzialmente un lato in comune, è relativamente facile andare a confrontarli. È molto difficile andare a fare una valutazione di dimensioni. quindi è chiaro che A è più grande di B, ma quante volte? È molto difficile. Invece è più difficile andare a confrontare due angoli che abbiano un orientamento diverso. Questo perché? Perché normalmente, almeno a livello percettivo, gli angoli così orizzontali sono percepiti più aperti rispetto a quelli verticali. In realtà C e D sono esattamente identici. Ora, è ovvio che se io mi metto lì, faccio molta attenzione, lo guardo con attenzione, riesco ad andare a fare una valutazione accurata. Il punto è, a questo punto però tanto vale scrivere due numeri invece di avere una visualizzazione. Il vantaggio della visualizzazione è che è immediata ed è di facile percezione. Qual è il problema dell'andare a confrontare gli angoli? Che soprattutto quando si avvicinano alla verticale è molto difficile andare a valutare la pendenza. Perché? Perché molto spesso quello che ci viene chiesto di fare, o comunque che siamo portati a fare quando andiamo a vedere una visualizzazione, non è andare a visualizzare, andare a valutare un angolo, ma bensì andare semplicemente a valutare quella che è la pendenza di un segmento. Quindi spesso non abbiamo il riferimento, come in questo caso, quindi non andiamo a valutare l'angolo, ma andiamo semplicemente a valutare le due pendenze. Ora, come funziona la valutazione della pendenza? La valutazione della pendenza sostanzialmente è dato un triangolo di questo tipo b su a. Quindi più b cresce a parità di a, più la pendenza è alta. Sostanzialmente questa è la tangente di questo angolo α. Normalmente quello che noi andiamo a fare è, quando dobbiamo andare a valutare la pendenza, non avendo b e a direttamente disegnati, è andare a valutare in qualche modo α rispetto a una qualche orizzontale, qualche riferimento orizzontale presente sul grafico. Quindi per valutare la pendenza del segmento AB noi di solito andiamo a valutare α. Il problema è che quando abbiamo un piccolo errore di valutazione di α, e questo è difficile soprattutto quando andiamo a valutare a occhio un angolo, è chiaro che se abbiamo 0, 90 sono relativamente facili, 45 tanto quanto, ma gli angoli intermedi non sono così banali. Quindi che errore andiamo a commettere? Se andiamo a commettere un errore ε nel valutare l'angolo, l'errore in termini di pendenza è sostanzialmente dato dalla tangente di α più ε meno la tangente di α. Quindi quanto andiamo a valutare in maniera diversa la nostra pendenza rispetto a quello che effettivamente è. quindi questo sostanzialmente è uguale a l'errore ε per la derivata prima della tangente di α, che è uguale a ε diviso il coseno al quadrato di α. Ovviamente man mano che α si avvicina alla verticale il coseno al quadrato di α tende a 0 e quindi questo errore tende sostanzialmente a infinito. Quindi in generale quando abbiamo angoli molto aperti è estremamente difficile fare una valutazione e tendenzialmente commettiamo un errore molto grande confrontando due segmenti che sono molto vicini alla verticale. quindi in generale noi possiamo utilizzare l'angolo per andare a codificare dei valori ma questo porta tantissimi problemi e quindi tendenzialmente è una scelta che facciamo se non abbiamo altre alternative. Altro attributo preattenzionale è la forma. Normalmente noi possiamo andare a disegnare dei punti o dei simboli in maniera molto diversa. Qui abbiamo un po' di simboli che spesso vengono utilizzati per andare a disegnare dei grafici. E' ovvio che qui non abbiamo nessuna semantica quantitativa quindi non riusciamo a dire che, che so, il triangolo verso il basso è più grande della x. L'unica cosa che possiamo fare è andare a utilizzare questo tipo di codifica per codificare degli attributi che siano di tipo nominale. Quindi il cerchio e il triangolo sono diversi. Quindi una metrica di tipo nominale può essere ragionevolmente codificata utilizzando semplicemente la forma. Abbiamo poi la lunghezza, la lunghezza che è relativamente facile da valutare ed è uno degli attributi più facili da valutare. Attenzione quando andiamo a valutare la lunghezza che ci sono effetti di contesto. Sicuramente avete già visto tutti questo tipo di visualizzazione. Ecco, apparentemente il segmento superiore è più lungo di quello inferiore ma se noi andiamo a confrontare i due in realtà hanno la stessa lunghezza. Quindi dobbiamo fare attenzione quando utilizziamo la lunghezza per andare a codificare dei valori a eliminare possibili effetti di contesto che alterino la percezione di queste lunghezze. Un altro attributo che possiamo utilizzare è la curvatura che però è molto difficile. non riusciamo sicuramente a dare una valutazione di quantità, riusciamo probabilmente a metterli in ordine e a percepire la differenza. Altro possibile attributo è lo spessore delle linee. Anche in questo caso è molto difficile valutare lo spessore relativo. Riusciamo tendenzialmente a differenziare l'una dall'altra e a capire chi è più spessa e quale è la più spessa rispetto alle altre. Quindi di nuovo può andare bene per andare a codificare una variabile che sia puramente nominale o eventualmente ordinale. La presenza di segni di nuovo non ci permette di andare a codificare dei valori quantitativi, eventualmente i segni ci possono andare a identificare una classe rispetto a un'altra. La dimensione. Ecco qui torniamo al discorso della legge di Stevens dove sostanzialmente l'idea è che è difficile andare a confrontare due aree diverse perché da un punto di vista percettivo non è immediato capire quante volte una è più grande dell'altra a meno di non fare delle operazioni complicate di valutazione delle dimensioni, calcoli, eccetera. Ma in maniera immediata questo è estremamente difficile. Abbiamo anche l'enclosure, quindi il fatto di chiudere qualcosa dentro una linea che tendenzialmente di nuovo può funzionare per andare a per identificare una categoria rispetto all'altra ma non per andare a codificare dei valori numerici. La posizione spaziale è un'altra caratteristica che può essere utilizzata per andare a codificare dei valori ed è sostanzialmente un meccanismo che permette di andare a codificare in maniera abbastanza precisa quando abbiamo a che fare con la posizione in realtà abbiamo diversi tipi di codifica. Abbiamo la posizione rispetto a una scala comune, quindi abbiamo tanti punti riferiti a un'unica scala e quindi vado a leggere la dimensione di un punto rispetto alla scala. Abbiamo la posizione rispetto a scale diverse, quindi abbiamo grafici diversi oppure abbiamo anche la distanza, quindi il valore che ci interessa andare a codificare è dato dalla distanza tra due linee oppure due punti. Quindi, posizione rispetto a una scala comune, molto facile da gestire, molto preciso perché noi abbiamo la scala, possiamo avere dei sussidi, ad esempio una griglia che ci permette di leggere meglio e indicativamente questo è normalmente il modo migliore per avere la codifica di un valore numerico quantitativo. Abbiamo la possibilità di avere una posizione rispetto a diverse scale. Questo è un po' più complicato soprattutto se queste scale non sono allineate tra di loro. Per cui, in generale, se abbiamo tante scale diverse, l'ideale è che siano allineate in modo da poter confrontare facilmente. Se non sono allineate, ecco, l'operazione di valutazione è un po' più complicata. Ad esempio, in questo caso, questo e questo, a colpo d'occhio non è immediato capire qual è più grande. Se andiamo a leggere con calma le tacche, sì, abbiamo che qui siamo sostanzialmente sulla quarta tacca Infine, la distanza. La distanza permette di andare a vedere la distanza tra due linee. Il problema è che molto spesso noi, da un punto di vista percettivo, quando andiamo a pensare alla distanza, la pensiamo dato un particolare punto in termini della retta perpendicolare alla tangente in quel punto. Per cui, se noi consideriamo questo punto e vogliamo andare a valutare la distanza rispetto all'altra linea, normalmente lo misuriamo su questo segmento, mentre invece la distanza effettivamente è una distanza in termini verticali, quindi molto più ampia. Per cui, la distanza utilizzata in diagrammi di questo tipo è un qualcosa di molto difficile da percepire in maniera corretta. Anzi, molto spesso da una falsa idea. In generale, ricordiamoci che ogni volta che noi dobbiamo andare a fare un confronto, abbiamo sostanzialmente due aspetti che influenzano questa operazione. Il primo è quello di detection, cioè la capacità di identificare i due elementi che devono essere confrontati. Quindi devono essere chiaramente visibili gli elementi. Quindi, oltre a discriminare tutto, devo poter identificare i due elementi che voglio andare a confrontare. Il secondo aspetto è l'aspetto di separation, cioè il fatto che se i due elementi che io voglio andare a confrontare, o meglio, i due elementi che io voglio che il mio osservatore possa confrontare in maniera agevole, sono molto distanti, è più difficile fare un confronto. In generale, se io voglio andare a suggerire un certo tipo di confronto al mio osservatore, devo mettere gli elementi da confrontare il più possibile vicini tra di loro. E questo è sostanzialmente quello che riguarda gli aspetti di forma e posizione nello spazio. Abbiamo anche altri tipi di attributi, ad esempio il colore. Normalmente quando parliamo di colore parliamo di tre aspetti diversi. Quello che si chiama la tinta, la saturazione e l'intensità, chiamata anche luminosità o valore. Quando parliamo di tinta, ovviamente qui è facile andare a distinguere colori diversi, tinte diverse, ma è praticamente assente una semantica che mi dia un ordine. Allora, io posso sicuramente andare a partire dal rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto, come i colori dell'arcobaleno, ma se non me li ricordo, usando la fila strocca, è difficile andare a capire qual è l'ordine. E quindi normalmente non c'è un ordine chiaro e facilmente comprensibile per il colore. Per questo motivo normalmente è altamente sconsigliato l'utilizzare il colore per andare a codificare delle misure che siano non semplicemente nominali, ma da ordinali in avanti. Posso sì utilizzare delle scale di codifica, delle leggende, ma tutto questo richiede molto lavoro cognitivo e non è assolutamente intuitivo. Un altro aspetto del colore è quella che si chiama luminosità o intensità. In questo caso invece è evidente che c'è un ordine per cui abbiamo i valori scuri e i valori chiari dall'altra. Quindi ad esempio l'intensità può essere utilizzata in maniera molto efficace per andare a codificare una variabile che sia puramente ordinale. Non riusciamo a capire ad esempio questo livello di grigio quanto più sia luminoso rispetto a quest'altro. Quindi un valore preciso numerico non è facilmente codificabile, a meno di non avere una leggenda a parte, ma di nuovo stiamo richiedendo un lavoro aggiuntivo. Un'altra terza caratteristica del colore è quella che si chiama la saturazione, che ci permette di andare da qualcosa che è sostanzialmente basato su toni di grigio a qualcosa che invece è un colore saturo. Anche in questo caso riusciamo un po' meglio rispetto alla semplice tinta a associare una semantica di ordine, ma risulta molto più facile associare una semantica di ordine se andiamo a combinare la saturazione e la luminosità. Quando abbiamo questi due elementi combinati assieme è molto facile andare a codificare una misura che sia una misura ordinale. Attenzione quando utilizzate i colori perché anche qui esistono dei fattori di contesto che possono andare ad alterare la percezione. Ad esempio, se andiamo a osservare i nostri due quadrati B e A, qual è più chiaro? Se non avete già visto questo tipo di illusione ottica, la risposta ovviamente è che A è più scuro di B. Quindi, in realtà, se noi facciamo un'operazione di traslare B su A, vediamo che è esattamente lo stesso colore. Non ci sono trucchi, ho semplicemente spostato il triangolo da una posizione all'altra. Quindi il contesto ci permette di andare a alterare pesantemente quella che è la percezione. Per cui, in generale, la raccomandazione è che quando utilizziamo dei colori per andare a codificare qualcosa, dobbiamo fare attenzione a utilizzare uno sfondo uniforme, altrimenti alteriamo completamente la percezione. E' il motivo anche per cui, quando andiamo a visualizzare qualcosa, dei grafici o altro, soprattutto sulle slide, tendenzialmente è meglio avere un background uniforme che non vari molto, altrimenti abbiamo problemi di percezione. Come usiamo il colore? Beh, possiamo utilizzare delle serie di colori che permettono di andare a codificare variabili ordinali, normalmente fatto attraverso la combinazione di saturazione e intensità. In generale, la raccomandazione è evitare accuratamente quelle palette, quegli insiemi di colori che sono ad arcobaleno, perché lì non è ovvio qual è l'ordine e quindi la codifica sostanzialmente può essere percepita in maniera molto sbagliata. A volte, quando abbiamo la necessità di avere valori sia positivi che negativi, vogliamo evidenziare questa differenza, possiamo utilizzare quelle che si chiamano delle palette divergenti che trovate ad esempio qua. Per cui, da un lato abbiamo il rosso, dall'altro lato abbiamo il blu. Questa coppia di colori viene codificata in termini di intensità e saturazione, per cui questo colore è più scuro e più saturo, quest'altro è più chiaro e meno saturo. Stessa cosa tra questi due livelli. Il colore intermedio, che in questo caso è un giallo, ma potrebbe essere, che so, un grigio, quindi molto neutro, è una via di mezzo tra i due colori estremi e sostanzialmente mi permette di andare a capire che questo è il valore intermedio neutro, qui andiamo a salire verso l'alto e qui scendiamo verso il basso. Attenzione quando utilizzate delle palette con tanti colori diversi perché ci sono diverse forme di cecità al colore, per cui se voi utilizzate combinazioni ad esempio di verde e rosso andate a impattare su un numero elevato di persone che hanno difficoltà a leggere e a distinguere correttamente questi colori. Tanto per darvi un'idea, a livello mondiale indicativamente le persone che soffrono di qualche forma di cecità al colore è intorno al 2-3%, quindi se non utilizzate correttamente i colori vi siete giocati un 2-3% del vostro possibile audience che va a osservare i vostri grafici. Quindi in generale, giusto per tirare le conclusioni, come possiamo andare a codificare i nostri valori? Beh, in base a vari studi e esperimenti questo è l'ordine con cui noi dovremmo prioritativamente andare a codificare i nostri valori quantitativi. Quello migliore è utilizzare le posizioni rispetto a un asse o eventualmente a più assi. In seconda battuta possiamo utilizzare la lunghezza e la posizione delle linee rispetto agli assi ed eventualmente la pendenza ricordandoci che ci sono problemi soprattutto quando le pendenze sono molto elevate quindi vicine alla verticale. Possiamo utilizzare la lunghezza delle barre e possiamo utilizzare delle forme diverse in cui andiamo a valutare la dimensione e eventualmente semplicemente quante elementi sono presenti quindi il conteggio. In generale, quelle preferibili sono le posizioni rispetto ad un asse e la lunghezza che sono le due quantità che riusciamo a percepire in maniera più corretta e meno alterata. Questo per quanto riguarda le variabili quantitative ovvero le misure che stanno su scale intervallo, rapporto oppure assolute. Per quanto riguarda altre misure che quindi sono su scale categoriche quindi nominali oppure ordinali di solito quello che possiamo utilizzare è ovviamente la posizione per cui più ci spostiamo più varia l'ordine la dimensione quindi l'ordine cresce con il crescere della dimensione in questo caso a me interessa semplicemente l'ordine non andare a capire quanto una bolla è più grande dell'altra ma semplicemente che siano diverse e poi il colore mentre intensità e saturazione sono perfetti soprattutto se combinati per andare a rappresentare un ordine la tinta abbiamo visto non lo è e può essere però utilizzata per andare a rappresentare dei variabili di tipo categorico anche la forma il tipo di riempimento lo stile della linea sono tutti aspetti che possono essere utilizzati per andare a rappresentare delle variabili che sono puramente categoriche e non hanno nessun ordine mentre invece quelle in alto possono essere utilizzate in maniera positiva e adeguata per andare a rappresentare variabili che abbiano al loro interno un significato di ordine quindi con questo abbiamo sostanzialmente visto quali sono i principi base della percezione quali sono gli attributi preattenzionali che il nostro cervello è in grado di leggere immediatamente senza particolare attenzione e come questi diversi attributi possono essere utilizzati per andare a codificare variabili che siano di tipo quantitativo o categorico dando preferenza ad alcune variabili alcuni tipi di codifica rispetto ad altri perché? perché semplicemente sono più facilmente percepibili e soprattutto danno una percezione che non è alterata del valore che sta alla base che noi abbiamo codificato con l'attributo visuale il prossimo passaggio è quello di andare a capire come possiamo utilizzare alcuni aspetti della visualizzazione per agevolare quella che è la fase successiva ovvero il ragionamento visuale quindi quello che permette di andare a discriminare i vari elementi di confrontarli mettendoli in un ordine e di valutare la loro dimensione ma questo lo vedremo in una prossima lezione non è Grazie.